L'assegnazione delle cattedre si sta traducendo in un esodo di massa dei docenti del sud verso il nord del paese e quanto sottolinea il consigliere regionale del Popolo della Libertà Forza Italia, Paolo Castelluccio. I docenti di ogni ordine e grado sono soprattutto donne e questo esodo, aggiunge Castelluccio, determina in molti casi una frantumazione delle famiglie ed un notevole aggravio di costi per una categoria tra le meno pagate d'Europa con un contratto bloccato dal 2009. Castelluccio, inoltre, nel segnalare errori grossolani della mobilità interprovinciale che coinvolge 100.000 persone in Italia, vede quale unica soluzione è una inversione di tendenza della linea politica con un reale incremento degli investimenti nell'istruzione, recuperando il gap demografico tra nord e sud. La conferenza delle regioni ha espresso al ministro Giannini dubbi circa il regolare inizio dell'anno scolastico e le criticità del piano straordinario delle assunzioni previsto dalla legge 107 del 2015, conclude Castelluccio, auspicando che venga valutata la possibilità di soluzioni alternative per l'utilizzo dei docenti che tengano conto della continuità didattica e del servizio prestato sui territori di provenienza.